I miei avrani, chiamiamoli così, quella del sabato e quella della domenica. Venerdì ci sarà il commercio, ovviamente sempre oltre all'ACM e sempre oltre ai nostri amici. Skippers che verranno a Napoli per l'America Stubber, quello che è la parte sportiva. Dunque che siate tranquilli che... E anche... non ci sono lavori in corso per... Allora è confermato, Giulio, pure l'ambasciatore nei prossimi giorni. Ah sì, lui mi parla di Sinova. Sì, dicendo che... 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 Sì, dicendo che ci sia... E tantomeno il console generale. 9 basi, ora Andy ci spiegherà un pochino più... Sì, dicendo che... Sì, dicendo che... Sì, dicendo che... Si, dicendo che... Si, dicendo che...